Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori. C'è preoccupazione in queste ore, in questi giorni per lo sciame sismico che sta colpendo la Sicilia. Alcune scosse ripetute stanno colpendo principalmente il canale di Sicilia Meridionale. Ieri notte c'è stato un terremoto di magnitudo 3.0 che, come detto, ha colpito il canale di Sicilia Meridionale a una profondità di 27 km. Un fatto, un evento sismico, un'attività sismica che ovviamente non può non testare preoccupazioni nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vi aggiornerò sull'argomento. Ciao a tutti!